Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sulla challenge beccali tutti schifo perchè questi sono i bicchieri e ci abbiamo messo delle bevande delle schifo abbiamo messo delle bevande tutte mischiate per esempio questo è di sonic boom questo è di nz di nz viper il mio questo è di felix710 seguitelo sul canale e seguite il tron cameraman e il supervisor allora consiste che noi abbiamo tre tentativi con i sassi di buttarli giù se noi non li se noi non li becchiamo li dobbiamo bere tutto quindi se non li facciamo cadere cerchiamo 60 e 3 sassi 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 ok 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 ora tocca felix anzi al centro aspetta io 2 3 3 4 4 io sono l'unica che ho fatto vedere il video io me lo do me lo do ok questo colore che non è gradevole per niente un quadro un quadro il mio colore ora tocca a felix ragazzi sentirete pure voi ora vediamo felix 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 Scusate se non sono riuscito a dire questa parola. Comunque, come si dice, è stato schifoso per noi e spero che vi sia stato divertente per voi. Ciao!